Tra me e lui c'è un conto in sospeso, lo devi solo sorvegliare, se lo ammazzi non avrai niente. E questo tizio, come si chiama? Pesantis, dal direttore, sei in uscita. Che ci fai qua? Ricordi, solo ricordi. E dico solo che è stato uno sporco figlio di puttana. Lo so chi mi odia, ma non quanto odio un'altra persona che stava fuori. Puttana. E non sembrano passati sette anni, ma? Ammesso. Mi ho scontati tutti. Era necessario che mi strappavi il vestito? Stai zitta, zoccolo, e fai quello che devi fare. La curiosità uccide, amico mio. Non sono amico tu. Allora preoccupati. Che cazzo vuoi? Ma chi? Chi? Non lo conoscevo. Mi ha afferrato e mi ha detto che se non sparivo mi avrebbe ammazzato. Ma sono sicuro che non hai le palle. Ma che vuoi fare? Vuoi ammazzarla? Ma lasciala stare. State zitte, dopo tocca a voi. Che vuoi fare? Porta via questo pezzo di merda. I moscerini sono la mia specialità. Chi tradisce una volta, tradisce sempre. Che bofa? La gialla a bocca faccia una terza. Fatemi scendere, mi prego. Fatemi scendere. Ma dove dovresti andare, stronza? Sparami! 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 Sparami!